Insieme all'assessore Scaiola, al 4 Zampe Dei, a San Bernardo di Mendatica, che è un luogo del cuore per l'assessore? Ma è un luogo del cuore perché io ricordo sempre che la mia infanzia l'ho passata qui, un po' più in alto, a Monesi, ma anche qui a San Bernardo di Mendatica, da settima e dall'amico Walter che ho ovviamente salutato, perché questi sono luoghi dove noi imperiesi siamo cresciuti, abbiamo trascorso tantissime feste dal Natale all'estate nella nostra infanzia e infatti stiamo lavorando anche perché come Regione Liguria insieme al Comune di Mendatica ridarremo fiato a questo territorio che è stato pesantemente colpito dall'alluvione del 2016. Insomma il futuro di questo territorio passa anche attraverso manifestazioni come questa? Sì, bravissimi Imperia TV, bravissimi l'associazione di Settimia che organizza da molti anni questo 4 Zampe Dei con questi meravigliosi animali, i nostri cani, è quindi un momento veramente di festa ma che porta tante persone qua e aiuta a tenere vivo nel cuore di tutto, di tutti, questo territorio che noi istituzioni abbiamo il dovere di curare e di rilanciare. Stiamo veramente facendo un grande lavoro, più di un milione di euro le risorse investite, ripeto stiamo lavorando con i comuni di Mendatica, di Triora, anche del vicino Piemonte per ridare fiato e futuro a una terra meravigliosa che ci invidiano in tante parti d'Italia. Però il prossimo anno l'assessore arriva col gatto, mi ha promesso? Allora io ho un gatto particolarmente grosso, simpatico anche se un po' aggressivo, non credo visto che la presenza di cani che sia utile inserire un gatto qua dentro, non so cosa succederebbe, vedremo, che ne so, magari arrivo con un cane anch'io.